Come sembra la gestione e l'accoglienza dei profughi a Milano e Lombardea? L'accoglienza è stata organizzata a livello nazionale con grande presenza del volontariato, con partecipazione dei comuni e con un'attività di coordinamento da parte della regione. Mi sembra che stia andando sicuramente bene anche perché adesso anche gli arrivi sono più controllati. Grazie a tutti.